Sparaforo ha detto che la legge delega non è su un binario morto, rispondendo un po' anche al consiglio di ieri, volevo capire se c'è una replica da parte sua, insomma lui ha detto che... Non mi permetto assolutamente di fare considerazioni in questo senso, in modo più assoluto, anche perché sono produzioni politiche, noi stiamo facendo dei discorsi solo, ripeto, di volontà di confronto e assolutamente di trovare una soluzione nell'interesse di tutti. Hai visto un incontro breve? Abbiamo mandato come era giusto, come l'abbiamo detto, una lettera al ministro, speriamo presto di incontrarci per trovare una sintesi, una soluzione, ripeto, per il bene di tutti, soprattutto allo sport italiano.